buongiorno a tutti buon sabato buon fine settimana io mi sono appena alzata diciamo che mi sono alzata mezz'oretta fa adesso sono le 11 stanotte sono atalato molto tardi perché ho dovuto fare delle cose a computer e quindi stamattina ho dormito un po adesso vado nella casa nuova che vi faccio vedere anche a voi il progresso e mi fermo in bar a prendere un cappuccino poi lo porto nella casa nuova lo bevo la e lorenzo sta mettendo su le matonelle cioè in teoria ha detto che metteva sulle matonelle ma da dire al fare c'è di mezzo tanto mare quindi vado a vedere ma sicuramente avrò messo sarà iniziando a mettere sulle matonelle e il tempo fuori è bellissimo c'è un sole pazzesco però c'è freddo e vado da sola perché fede mi abbandona sempre quindi lui dice che andando in giro si stanca quindi sta a casa adesso aspetta un attimo che mia sua ce la viene su e poi ci vediamo nella casa nuova allora sto uscito adesso sono alle 11 e 10 vado verso il bar e qui vado alla casa devo riportare la mascherina perché già sto uscendo senza maschera ma non si può fare ma per la casa rama patienza a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi, meno male che in macchina è rimasto il caldino di stamattina quando sono andata alla casa. Io ho fatto alcuni video della casa, ma non ho ripreso tantissimo perché c'era la musica accesa, mio marito che cantava, tra una cosa e l'altra. Sono riuscita a spiegarvi molto, ma domani, se riesco, mattina o pomeriggio, quando lui non c'è, vado là e vi spiego un po' le cose, le luci. Avete visto comunque il cartongesso in sala con tutte quelle luci e, insomma, vi spiego un pochino che cosa abbiamo fatto in sala, che gioco di luce abbiamo fatto in sala. Adesso parto perché se no è tardi ci vediamo stasera. Buonasera, ormai buonanotte. E' tardissimo, sono le tre di notte. Sto portando una serie su Disney Plus, una serie vecchia, ho sentito la c'era una volta, ormai secondo me la conosce il mondo intero, ma avevo iniziato a vedere la prima stagione anni fa. Poi dopo l'avevo lasciata un po' perdere e adesso l'ho ritrovata su Disney Plus e voglio continuare a vedere. Ovviamente l'ho iniziata dal principio perché non mi ricordavo un dubbo. E mi sono un attimo messa qua dalle dieci e mezza, scusate, dalle mille dieci e mezza che sono a vedere la serie. Adesso finisco l'episodio e poi vado a letto. domani è domenica, cioè per voi è già domenica. E domani voglio veramente mettere il mio computer e registrare gli ultimi video che mi rimangono perché se no non ce la faccio. E ho messo a posto già un po' a casa quindi domani ho da fare poco. E spero domani di andare alla casa perché penso che Lorenzo ci va di solo la mattina e basta. Non so se riesco ad andare al pomeriggio, se no lunedì. Mi sono fatta adesso una tisana, l'ho bevuta, bella bollente. E adesso finisco l'episodio e noi ci vediamo domani con un altro vlog. Vi mando un grosso bacio e a domani. Ciao!